Consigliere, l'approvazione del documento unico di programmazione per il 2023-2025, argomento principale del Consiglio Comunale, posizione che è stata abbastanza critica insomma nei confronti della Giunta d'Alberto. Sentendo la relazione dell'assessore di riferimento, ha detto praticamente che ci sono 173 milioni di euro di investimento. Io di questi 173 milioni di euro voglio capire un attimino quanti fondi propri, quanti fondi del PNRR e ha fatto poi un elenco di opere da realizzare e che si sono realizzate da cittadino, non da consigliere comunale. Girando la città io queste opere non le vedo, vedo una città soprattutto nelle frazioni totalmente abbandonata, abbiamo veramente situazioni critiche di alcune frazioni. Per tornare poi sulle scuole, vedo scuole ancora non sicure, vedo il palazzo di città, quindi la casa dei cittadini terramani, consiglio comunale, la sede del consiglio comunale ancora puntellata e una situazione di manutenzioni molto precaria. Quindi voglio capire un attimino perché poi l'assessore illustrava anche determinate opere come degli impianti sportivi, parlava del campo del Piano della Lente, i cittadini terramani devono sapere che il Piano della Lente è un investimento, non un investimento, è un mutuo, che l'amministrazione ha fatto su quel campo come il campo di San Nicolò. I cittadini lamentano questa situazione appunto dei parcheggi e tante altre criticità che questa amministrazione ha. Qualcosa è stato fatto, ma non le fiabe o il libro dei sogni che oggi l'assessore ci ha illustrato con determinate opere, perché alcune opere che l'assessore ha illustrato porta data a 2026, quindi non prendiamo in giro i cittadini terramani, siamo seri perché ad oggi a distanza di cinque anni è stato fatto ben poco da questa amministrazione.